È un forum estremamente importante perché si parla di salute pubblica, di complessità del sistema, si parla della nuova governance e soprattutto sono riuniti tutti coloro che possono dare un contributo per migliorare la capacità di far fronte alle sfide che ci aspettano. Sicuramente l'industria fa la sua parte, è stato istituito un tavolo con cui confrontarsi proprio sul documento emanato della nuova governance e io credo che col contributo di tutti, pur rimanendo nei ruoli e nelle responsabilità che sono differenziati, si possa arrivare veramente a gestire quelle che sono le criticità dei prossimi decenni nell'ambito del quale l'assistenza sanitaria sta cambiando con una grande velocità grazie all'innovazione ma anche alla domanda crescente di servizi differenti.